bella a tutti ragazzi sono da Mirko benvenuti su Ghibli channel A su Supermarket Simulator ebbene si ragazzi torniamo dopo un po' di tempo su questo gioco perché è stato aggiornato allora hanno messo parecchie cose devo dire anche in questo aggiornamento primo fra tutti che gli scatoloni adesso alleluia arrivano ordinati e questa è già una gran bella cosa perché effettivamente prima arrivavano insomma veramente in maniera imbarazzante venivano mollati giù diciamo così un po' a cavolo e quindi soprattutto quando si ordinava tanta roba diventava veramente un casino riuscire a trovare quello che magari ci interessava prima perché era tutto praticamente mischiato invece adesso arrivano belli impilati belli ordinati e questa è una cosa che sicuramente ci fa piacere poi hanno aggiunto il tablet con cui fare direttamente gli ordini che però ce l'ho bloccato probabilmente mi si sblocca credo con l'aumento di livello perché ho dato un'occhiata molto veloce al computer ma non ho trovato diciamo così qua sul computer cose che mi permettano di sbloccare il tablet quindi penso che mi si sblocchi credo a sto punto in automatico magari proseguendo con il gioco quindi vabbè sicuramente poi è una cosa che vedremo e probabilmente col tablet ci avviciniamo diciamo i prodotti esposti sullo scaffale possiamo direttamente fare gli ordini quindi anche questa è sicuramente una cosa molto molto comoda allora questo lo butto un attimo qua e ok nel frattempo facciamo una cosa magari chiudiamo la cassa e apriamo così iniziamo a far arrivare i clienti perché hanno aggiunto anche un'altra cosa molto carina sul discorso della cassa automatica intanto sulla cassa automatica dovrebbe contarvi i clienti anche della cassa automatica per sbloccare i cassieri sapete per sbloccare i cassieri noi dobbiamo fare un tot diciamo di clienti in cassa praticamente prima i clienti alle cassa automatiche non venivano conteggiati in questo numero che dovevamo raggiungere invece adesso sì quindi vabbè questo è un aiuto sicuramente maggiore per riuscire diciamo così a ottenere un attimino prima il discorso del raggiungimento di quella cifra per appunto sbloccare il cassiere e poi un'altra cosa molto carina che hanno messo allora ah intanto hanno messo aspetta no utensili ce li ho eccolo qua come si sblocca ok scusate non l'avevo visto quindi ritiro tutto ciò che ho detto adesso poi lo proviamo hanno aggiunto anche un'altra cosa non so se hanno aggiunto qua nuovi pavimenti pitture e robe del genere forse qualche scaffale nuovo anche perché mi sembra di vedere più roba rispetto a prima però non lo so magari magari mi sbaglio io cartello categoria cera perché possiamo mettere le categorie appunto i vari cartelli come nei veri supermercati prodotti nuovi non mi pare abbiano aggiunto nulla ma hanno messo praticamente nella gestione era fammi vedere un attimo no non era qua ah era sui prezzi eccolo qua molto carino perché da qua possiamo praticamente vedere tutta la lista dei vari prezzi diciamo dei prodotti che abbiamo attualmente in negozio è vedere anche diciamo così il costo attuale il costo medio il prezzo di mercato il prezzo a cui noi lo stiamo vendendo credo si possa cambiare il prezzo anche direttamente di qua tipo proviamo a mettere 5 e 80 credo si si può cambiare anche di qua quindi assolutamente sì ecco qua vedete che la signorina adesso ha bisogno di aiuto non so per quale motivo bisogno di aiuto che vuoi dalla mia vita sono qua zia non so cosa non so cosa devo fare aiuto a tieni premuto a ok gli devo mettere io le cose nella borsa carina questa cosa ok ok quindi qua praticamente possono le persone aver bisogno di aiuto nella cassa automatica e quindi dobbiamo aiutarle diciamo così a imbustare o forse le aiutiamo passando gli oggetti sul lettore magari quelli che hanno qualche difficoltà quindi va bene è molto carina comunque come cosa devo dire ci sta ci sta assolutamente allora questa la possiamo buttare via anche perché almeno diciamo che così riusciamo a essere occupati un po' anche con le casse automatiche perché se no prima uno giustamente mette la cassa automatica e dice sti cavoli non faccio più io cassa e invece no in questo modo anche le casse automatiche hanno comunque bisogno diciamo così di sempre un occhio nel caso appunto qualche cliente necessiti di un aiuto allora 3780 ok intanto facciamo anche noi un po' cassa perché se no qua se no qua solo con la cassa automatica diventa problematico non so poi questa cosa qua dell'aiuto se praticamente anche i nostri operai possano aiutare le persone alla cassa automatica questo francamente non lo so quindi anche questa sarebbe una cosa interessante eventualmente da vedere allora vediamo un attimo se perché vorrei assumere qualcuno sinceramente questo mi costa salario giornaliero 80 io quasi quasi lo assumerei il primo cassiere dai vediamo di assumere intanto il primo cassiere così almeno ce l'abbiamo e mi da una mano così noi pensiamo pensiamo un attimo alle altre cose a questa bisogno di aiuto e vedi perché devo comunque essere pronto e disponibile per aiutare le persone alla cassa automatica adesso ero curiosissimo di provare il tablet perché con questo possiamo rimuovere dal cestino aggiungi il carrello ok quindi qua abbiamo il tablet e quello che spara flash praticamente se io ordino questa si vedete posso ordinare di qua comodissima sta cosa questa è una cosa veramente veramente comoda allora il latte lo ordiniamo l'acqua no perché ne abbiamo un sacco magari ordino un po di farina tra l'altro ci fa vedere anche quanti ne abbiamo esposti e quanti diciamo pacchetti ci sono all'interno del cartone quindi anche questa è un'altra cosa sicuramente molto comoda prendiamo anche la pasta e ok e poi penso che allora prendo anche la nutella qua e posso fare acquista direttamente con questo fighissima sta cosa molto molto comoda ragazzi veramente veramente comodissima allora mettiamo fuori tutta la farina così almeno questa ce l'abbiamo e buttiamo via si vedete il cassiere qua adesso iniziava per forza di cosa servirmi perché iniziano a essere veramente un po incasinate le faccende qua ah di nutella ne avevo già un'altra vabbè pazienza tanto comunque la vendiamo non è non è un grande problema mettiamo a posto fuori tutte le altre cose qua pasta non ne avevo più sicuramente qualcuno si sarà lamentato che non l'avrà trovata però vabbè pazienza non è non è un grandissimo problema dai devo mettere fuori anche l'acqua che quella ce l'ho ma devo solo esporla allora formaggio 1 lo mettiamo qua quella c'ha bisogno di aiuto arrivo zia un attimo arrivo zia molto carina questa cosa qua dell'aiuto in cassa automatica mi piace devo dire ci sta assolutamente perché come nella realtà insomma capita spesso anche a me quando vado al supermercato e uso la cassa automatica magari c'è qualche cliente che ha bisogno di un aiuto perché appunto magari c'è qualche oggetto che non gli passa piuttosto che queste cose qua quindi quindi direi che ci sta tantissimo per cui meno male che stanno comunque continuando a lavorarci sopra a supermarket simulator perché insomma avevo un po' abbandonato le speranze devono ancora aggiungere il discorso delle telecamere di sicurezza devono ancora aggiungere come si chiama il discorso appunto poi vabbè ovviamente dei furti potrebbero aggiungere ancora un sacco un sacco di cose quindi speriamo che vadano avanti ad aggiornarlo perché come detto e comunque secondo me è un ottimo simulatore e spero solo che continuino effettivamente ad aggiornarlo a stargli dietro come si deve perché ripeto potrebbero fare veramente tante cose potrebbero mettere anche fuori carrelli con magari qualcosa annesso ai carrelli quindi il fatto non lo so magari di doverli comprare di doverne avere sempre a disposizione un certo numero perché sono magari clienti si lamentano insomma anche qua potrebbero fare veramente veramente una fraccata di cose quindi io posso anche comprare adesso ad esempio i cereali la nutella ce l'ho la devo mettere fuori perché va un casino sta nutella prendiamo anche magari il pane prendiamo anche lo zucchero però adesso non mi farà fare l'ordine perché ormai sono le 9 quindi non credo che mi faccia fare l'ordine no infatti mi dice che è chiuso mi dice che è chiuso mannaggia la miseria va beh giustamente anche col tablet il nostro negozio sempre lo stesso orario bene bene va bene così non è un grande problema ordineremo poi il giorno successivo arrivo sure un attimo arrivo arrivo una no è uno sure questo ok aspetta che ti do una mano a metter via le cose che qua sei un po' rimbambito perfetto vai con dio ok ottimo poi non mi pare che abbiano aggiunto altre cose sì ho un po di bollette a pagare ma tanto me le paghe in automatico quando scadono quindi non è un grandissimo problema qua abbiamo i vari rifornitori hanno aggiunto altri quindi ne hanno messi altri due mi sembra che prima erano quattro adesso ne possiamo assumere fino a sei quindi ottima cosa anche questa avevo letto forse che o lo dovranno mettere il discorso del della vendita online no però questo ancora ancora non l'hanno messo dovranno metterlo mi sa dovranno dovranno sì assolutamente metterlo tra l'altro il magazzino cos'è che mi costava 800 a questa la prima sezione del magazzino 800 per poter poi diciamo così andare ad assumere anche il il magazziniere e io lo proverei sinceramente il magazzino io il magazzino lo proverei perché comunque vorrei appunto assumere anche il magazziniere per vedere un attimino come va abbiamo fatto 38 clienti un solo cliente non soddisfatto perché non ha trovato qualcosa probabilmente quando era finita la pasta o qualche altra cosa comunque direi che non è un grande problema abbiamo il prezzo è un aumento del tè nero che costa 6,03 quindi noi lo vendiamo tranquillamente a 6,10 così almeno abbiamo il nostro guadagno riprendiamo il tablet che per fortuna anche il tablet mi tiene gli ordini che si fanno dopo la chiusura se non possiamo ordinare perché chiuso comunque ce li tiene in memoria quindi ottima cosa allora iniziamo ordinare sta roba qua perfetto però adesso il il magazzino mi costa 800 e noi abbiamo 909 quindi non è che siamo non è che di nulla però è vero anche che comunque abbiamo il nostro cassiere quindi effettivamente non è che devo fare chissà che cosa a livello di lavoro quindi apriamo il negozio così il cassiere mi va avanti a incassare e io posso eventualmente preoccuparmi di acquistare la prima licenza del magazzino quindi insomma acquistare la prima parte del magazzino così poi magari vediamo se riusciamo anche ad assumere il magazziniere visto che c'è adesso da diciamo così star dietro anche alle casse automatiche potrebbe effettivamente non essere male allora qua mettiamo la pasta sale ne ho da mettere fuori sì direi assolutamente di sì quindi lo mettiamo fuori tutto così almeno butto via anche sta scatola e facciamo un po di posto perché sennò qua non mi ci sta una mazza di nulla no questo detto che li avevo provati a mettere prima ma sono già pieni quindi niente qua l'acqua direi che piena forse posso mettere queste uova qua sì perfetto così adesso la scatola l'abbiamo svuotata e la buttiamo via almeno tiriamo anche un po anche un po di scatole ragazzi perché sennò qua sennò qua facciamo veramente un magazzino praticamente all'interno del negozio però vabbè si sa che all'inizio all'inizio bisogna far così per forza allora devo anche ordinare il caffè intanto metto in ordine le varie cose che mi servono secondo me anche l'olio assolutamente va ordinato il riso mi serve me l'ho messo il riso no perché ero un po troppo lontano e prenderei anche le due farine perché qua come al solito ci serve tutto come al solito ci serve tutto allora un po di formaggio ce l'ho quindi per adesso prenderei prenderei giusto sta roba qua dai prendiamo giusto sta roba qua così almeno così almeno siamo a posto spendiamo 173 però è roba che ci serve è roba che ci serve ok allora quindi mettiamo fuori già la farina perché sennò poi non ho roba da vendere e quindi se guadagno se non si vende non si guadagna ragazzi purtroppo è la dura legge di mercato allora mettiamo via queste perfetto andiamo fuori a mettere l'olio e io comunque il magazzino già lo sbloccherei così tanto quello ci costa 800 adesso roba l'abbiamo appena comprata quindi dovrei riuscire a riempire il tutto come avevo già detto già dagli scorsi aggiornamenti comunque vedo che anche nei primi livelli quindi anche all'inizio perché noi abbiamo dovuto io ho dovuto riniziare la partita perché con tutte le mode che avevo messo mi si era sminchiato totalmente il salvataggio non c'è stato verso di recuperarlo quindi ho dovuto riniziare ma vedo che riniziando dopo gli ultimi salvataggi devo dire che il gioco arrivo arrivo diciamo così aumenta molto i prodotti che i clienti comprano rispetto a prima questo me ne ero già accorto nello scorso aggiornamento probabilmente ha aumentato proprio il numero di oggetti che le persone comprano e quindi tendono a svuotarmi molto ma molto di più il magazzino buonanotte il negozio e quindi dobbiamo sempre starli dietro a fare ordine e tutto quanto per cui per cui un bel problema allora abbiamo sbloccato il magazzino per anno ma io sono un pirla io l'avevo già sbloccato avevo visto la porta chiusa e pensavo di non averlo ancora sbloccato invece l'avevo già sbloccato vabbè l'abbiamo l'abbiamo allargato non è un problema devo però assumere il magazzinieri non mi ricordavo più ragazzi non ho neanche guardato visto il bloccato sulla porta ma la porta in realtà la sblocchiamo dopo è vero e non ci pensavo totalmente più vabbè vabbè fa niente fa niente tanto il magazzino più grande comunque serve tanto avremmo dovuto in ogni caso allargarlo quindi l'abbiamo già allargato poi alla prima occasione che riusciamo vediamo di andare anche a comprare qualche scaffale in più per il magazzino così da iniziare a dividere un pochettino tutta la roba allora qua c'è tutto qua devo prendere assolutamente però un formaggio perché sono completamente senza quindi devo prendere il formaggio il latte ne abbiamo cosa posso prendere io prenderei comunque le farine però c'è almeno quella blu perché vedo che va vabbè prendiamo anche questa prendiamo anche questa il tè possiamo aspettare che costa una cifra prendiamo qua la nutella e per adesso ordinerei solo questa cosa qua allora vediamo se posso prendere il magazziniere così almeno mi mette via lui la roba e vediamo un attimino come si comporta rifornitore a no però mi richiede livello 15 è che che sfiga ecco perché non l'avevo già assunto perché in realtà mi chiede livello 15 ok non ci ho guardato ragazzi sinceramente non ci ho proprio guardato perché ero curioso di vedere le varie cose del nuovo aggiornamento quindi non ci ho davvero davvero guardato arriva aspetta fammi mettere fuori formaggio che se no questi mi si lamentano se no questi mi si lamentano e rompono le balle che non ci sono le cose ok arrivo arrivo a darti una mano zio arrivo a darti una mano zio ti è perfetto ho chiuso si ah no ok già posto già posto perfetto perfetto allora mettiamo quelle farine e no quindi dovevo aspettare per forza il livello 15 speravo di poterlo assumere subito e invece mi ha fregato e invece mi ha fregato e non sapevo di avere il magazzino peraltro ma io comunque per il momento finché non sblocco la porta ragazzi le cose le lascio qua perché mi viene più comodo se no mi tocca fare avanti indietro 50.000 volte con le scatole visto come svuotano velocemente il negozio sinceramente non ha non ha molto senso ho già finito la pasta sì però ce l'abbiamo qua quindi mettiamola subito fuori se no questi se lamentano comunque vedete quanta cacchio di roba comprano cioè comprano veramente una quantità di roba esagerata e lo si vede anche da quanto meno fatica facciamo a fare soldi a fine giornata perché prima si faceva decisamente più fatica mentre invece adesso è tutto molto più veloce e questo sicuramente un bene perché chiaramente insomma riusciamo a fare qualche soldino più velocemente e quindi anche a sbloccare le varie cose a proseguire insomma nel nel titolo con un po più di facilità perché prima era veramente veramente lunga la cosa molto molto lunga ok allora mettiamo fuori gli spaghetti che tanto ci stanno tutti così iniziamo a liberare un po di scatole beh ormai siamo a livello 14 quindi non manca neanche tantissimo un livello e possiamo sbloccare finalmente il primo magazziniere che peraltro se non mi ricordo male se ho letto bene dovrebbero essere anche stati migliorati dal punto di vista diciamo così dell'efficienza ecco quindi dovrebbero intanto raccattare le scatole già da fuori questa è una cosa che era già stata aggiunta negli scorsi aggiornamenti ma che non ho mai provato perché appunto non ho ancora avuto modo di assumere il primo magazziniere e poi dovrebbero anche essere diciamo più efficienti e quindi meno diciamo così meno suscettibile bug glitch e cose varie ecco dovrebbero dovrebbero viaggiarsela senza troppi problemi teoricamente poi bisognerà provare se effettivamente così ho finì il latte però vabbè ormai sono le nove quindi non posso ordinare un cacchio di niente ho visto che è entrata una maria di gente devo dire visto che è entrata veramente tanta gente quindi vediamo un attimino poi a fine giornata che cosa riusciamo a fare poi eventualmente nel prossimo episodio sicuramente riusciremo a ordinare a ordinare buona cose povero ordinare il magazziniere no a assumere il magazziniere così vediamo poi effettivamente come si comporta voi fatemi sapere ragazzi come detto a me comunque diverte sempre non ha trovato il latte lo so zio ho finito che cacchio vuoi chiuso il negozio se non posso ordinarlo dicevo a me diverte sempre portare questo titolo perché comunque nonostante tutto mi diverte poi adesso ci sono anche alcune cose nuove da vedere quindi se volete continuare appunto a vederlo noi lo portiamo avanti più che volentieri vediamo un po tutte le varie novità che sono state introdotte che spero verranno introdotte ulteriormente a breve mi piacerebbe vedere le telecamere di sicurezza insomma un po più di attività all'interno del supermercato non sarebbe assolutamente male anche se come detto devo dire che questi ultimi aggiornamenti questo è anche quello precedente con le casse automatiche tutto mi sono piaciuti come detto mi sono assolutamente piaciuti quindi speriamo che continui così allora abbiamo fatto 37 clienti sempre una persona insoddisfatta quella che abbiamo visto prima uscire che si lamentava del latte però direi che per il resto è andata assolutamente bene abbiamo pagato automaticamente il personale l'affitto e la fattura di qualcosa non so se corrente o cose del genere quindi abbiamo comunque ancora 893 cifre che ci permette più che tranquillamente di andare diciamo così a ordinare tutto quello che ci manca va bene ragazzi allora io per il momento posso concludere qua ci tenevo a farvi vedere un attimino le novità dell'ultimo aggiornamento quindi mi raccomando fatemi sapere come sempre lasciate un sacco un sacco di like e condividete commentate iscrivetevi al canale se non siete iscritti a teatral campanellina delle notifiche per chi vuole dare un contributo concreto al canale come sempre può fare attraverso gli abbonamenti youtube o tastino grazie sotto di ogni mio video detto questo giovanotti vi ringrazio i saluti ci vediamo nei prossimi gameplay ciao belli